ciao a tutti merdoni come va spero tutto bene dopo ben 32 video dedicati a questo capolavoro più totale è l'ora di passare al next level con l'acquisto di call of duty fantasma cappio bastardo sei una merda non comprare chiamata al dovere fantasma è un gioco commerciale lo fanno tutti devi fare i giocattoli che non se li caga nessuno gli indie games pieni di magia fai pokemon fai addo fai digimon oppure installa i cavallini di minicraften stai zitto bimbo minchia tumorato o ti cancello il personaggio di minacraften no 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 ti prego non mi cancellare minacraften altrimenti mi ammazzo in cameretta please purtroppo ho commesso l'errore di scoprire questo gioco troppo tardi perché troppo convinto delle idee malsane dei tumorati che lo etichettavano come gioco commerciale chi la putt è in disorreta vostra ma adesso con l'esperienza di blackcock 2 la tecnica sopraffina che ho affinato in questi mesi e la modalità dei decessi ci potremo godere il nuovo titolo partendo da un'ottima base di esperienza in poche parole vinculerò con la sabbia ne abbiamo viste di cotte di crude riguardo questo gioco non per forza sempre cose positive anzi abbiamo visto delle texture con il bacon sopra vendute a 2 euro abbiamo visto mappe di merda che potevo creare anche io se mi fornivano un editor vendute a suon di big money eccetera eccetera insomma siete stati munti come delle mucche ma d'altro canto abbiamo avuto una bellissima modalità dei decessi un casino di situazioni assurde negli infernal montage un bordello di partite da masturbazione seriale e tanto divertimento insomma il gioco è stato un successo a mio avviso e siccome voglio dare fiducia a questo titolo acquisterò anche chiamata al dovere fantasma che voi siate d'accordo o meno ovviamente bene penso che possiamo iniziare con il video tributo a qualcuno mi ha chiesto se quello sul pollice era del sangue beh caro mio quello non è affatto sangue ma la sgrizzata di merda buona visione e siamo qua iniziamo subito con una bella bombazza adesiva da distanza letteralmente a siderale come avete potuto capire dall'introduzione del video questo sarà l'ultimo infernal montage di black cock 2 prima di bucare su ghost lo so benissimo che il cazzone nero 2 vi piaceva e vi faceva arrappare ma ho dato tutto ciò che avevo su questo gioco e ho bisogno di nuove sfide e nuovi merdoni da spalmare vedrete che su ghost faremo cose da masturbazione seriale sono felice di prendere fantasma perché con l'esperienza che mi sono fatto potrò partire subito con il piede giusto e dedicarmi subito ai video informativi e agli infernal montage dopo tutto se pensate che non ho mai giocato a nessun call of duty e mi sono usciti 32 video immaginate cosa riuscirò a tirare fuori da ghost rimarrete con la faccia incollata al monitor proprio come questo beduino cammellato rimane incollato al muro ma che minchia guardi next in questa clip vi farò vedere come si difende il tunnel vaginale nella mappa della centrale nucleare inoltre stavo anche pensando di acquistare qualche dlc merdoso di ghost non l'ho mai fatto prima ritenendo i dlc una merda ma lo farò solo per voi siete contenti merdoni ovviamente non mi scaricherò tutti dlc ma solamente quelli che riterrò degni di attenzione se la cosa vi fa piacere esprimetevi nei commenti quante frecce infernali abbiamo lanciato con la nostra balestra contro i merdoni ignari di essere già morti ecco l'ennesimo colpo spettacolare che uccide anche se non colpisce ma riguardiamo il replay la freccia non colpisce il nemico ma rimane sospesa a mezz'aria devo avergli ammazzato l'angelo custode aga gaga next alcuni merdoni mi hanno chiesto insistentemente capio sborone ma tu prenderai solo call of duty ghost oppure anche campo di battaglia 4 allora il punto è questo battlefield 4 è un gioco meraviglioso se giocato sulle console next gen con 64 giocatori che cazzo ci gioco a fare con 24 giocatori su xbox 360 di cui 12 della mia squadra ci saranno mappe enormi mezzi terrestri aerei che non ha senso giocarci in così pochi per un gioco del genere a mio avviso bisognerà acquistarlo sulla ps4 o sull xbox one ci ho riflettuto su molto a lungo e non ne vale la pena giocarlo sulla xbox con così pochi giocatori e perdere ore a cercare il nemico imboscato chissà dove con 64 giocatori invece la questione cambia perché davvero diventa una guerra poi se qualche azienda me lo regala lo farò volentieri utilizzo gli ultimi minuti di questo video per ricordare tutte le puntate di black cock 2 abbiamo fatto tutta la modalità dei decessi divisi in tanti episodi dove ha partecipato pure arno cobra un merdone straniero che non ho mai capito da dove venisse mamma mia anzi mamma vostra quanto siamo arrivati lontani grazie a lui poi ci sono stati gli indimenticabili inferno al montaggio che ovviamente riprenderanno in grande stile nel prossimo capitolo ghost ci sono stati video tutorial su come costruire gli oggetti in transit abbiamo avuto quel diaulaccio satanico dell'autista ted che bestemmiava tutto un continuo poi i mitici episodi sulla difesa più totale che hanno macinato visite come delle prostitute in offerta e tanto altro quante notti ho passato a sparare e insultare ogni soggetto che incontravo durante le partite quante scene epiche ho raccolto quante uccisioni ho fatto e subito nel corso di questi mesi il gioco mi è piaciuto moltissimo e devo ammettere che solo dopo averlo prodato ho capito perché ha venduto e venderà sempre così tanto non importa che sia un gioco facilitato non importa che se spari in testa il proiettile colpirà alle palle non importa se la connessione puzza di merda ma è il prodotto in sé ad esser divertente e tutti questi difetti lo rendono ancora più bello il gioco anche se all'apparenza sembra semplice e noioso in realtà nasconde un casino di situazioni epiche che potrebbero venire fuori durante le partite che lo rendono un prodotto sempre godibile che cazzo dici capabastana call of duty è un gioco lezzo commerciale brutto commerciale bugato e commerciale non devi acquistarlo devi giocare giochini pieni di elfi e di marghetti pieni di gattini e bacchette magiche xd xd se ti spuntasse un cactus dal culo stanotte sarei molto più sereno e felice bimbo merda i tuoi giochetti della chicco non mi interessano io ho bisogno di sangue e di violenza di big money e di giochi duri da ometti grandi capisci che intendo ho bisogno di giochi che mi facciano venire il capitano durissimo e mi eccitino a livello psicologico call of duty mi arrapa come una scimmia e siccome qua dentro sono io lo re comando e conquisto aspettatevi un bordello di video riguardanti call of duty ghost e successivamente anche di battlefield 4 per me era una novità assoluta bucca a drento i vari call of duty ma ne sono rimasto piacevolmente colpito ovviamente non potete capire le tonnellate di insulti che ho lanciato durante le partite ma quello fa parte del gioco infatti non si può giocare a call of duty senza tirare giù le madonne e dopo aver visto questo idiota saltare per aria è arrivato il momento di andare a fanculo ma prima di chiudere devo mostrarvi una cosa spaventosa non ci potevo credere la activision mi ha plagiato vi ricordate mesi fa quando avevo fatto il video riguardante la vostra postazione di gioco per grand theft auto 5 bene quelli di activision mi hanno plagiato hanno copiato la mia idea della postazione di gioco e l'hanno messa sul loro sito serpenti 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 non avete avuto la decenza la minima di decenza di inviarmi il gioco a casa gratuitamente per ringraziarmi serpenti 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 adesso mi toccherà spendere 60 euro degli stramortaci vostri per averlo e sperate che sia bello come black cock 2 altrimenti vi farò cagare sangue bene dopo esser stato plagiato penso che per oggi è tutto ora vi saluto perché la vita è breve ciao a tutti merdoni a presto grazie a tutti